Posso chiedere innanzitutto qual è il valore della memoria, secondo lei? È un valore fondamentale su cui basare la vita di tutti i giorni, per poterci impegnare tutti a costruire il mondo migliore che sogniamo tutti. Che effetto le fa vedere ancora quelle agende rosse che sono sventolate da cittadini normali che vogliono scuotere le coscienze per una memoria che non si vuole ricordare? Certo, mi fa l'effetto di una bella speranza che continua a vivere dentro di noi e che vuole continuare a impegnarsi perché la verità va a lunga galla e perché l'impegno di ognuno porti a questa verità. Un'ultima domanda, che cosa significa combattere la mafia oggi? Significa impegnarci tutti per un paese migliore, per il paese che sogniamo tutti, per il paese che ognuno può costruire col proprio lavoro e col proprio senso di responsabilità. avere coscienza, quindi? Certo, avere consapevolezza del proprio valore di essere cittadini. Grazie. Grazie.